Ciao a tutti, sono in auto perché sto andando a trovare mio marito Silvio sul suo posto di lavoro così sarà lui stesso a proclamare la vincitrice del piccolo quiz che avevo indetto un paio di video fa adesso non ricordo, comunque la settimana scorsa, quello in cui bisognava appunto indovinare quale fosse la sua professione per vincere appunto un pacchettino sorpresa diciamo così e quindi niente, dai seguitemi e ci vediamo dopo, ciao eccomi qua, sono arrivata, ormai sta chiudendo ciao Silvio, ciao che fai, hai finito? sì cosa stai facendo? cos'è quella roba qua? il torno quindi tu sei un? il torno grazie ciao Silvio ciao ciao ciao